Un saluto a tutti gli amici collegati in circuito radiofonico da Fabio Pezzotti, esordio del mio nuovo canale radiofonico FP Sport Radio, con la speranza che vi possa regalare tante emozioni. Parleremo della Roma, parleremo anche e soprattutto del Frosinone, portando dentro trasmissioni Noi alla Roma, Noi e il Frosinone. Ma entriamo in dettaglio e andiamo a parlare della partitissima che si giocherà domani sera, lo ricordo, allo Stadio Olimpico tra la Roma ed il Napoli. Da una parte il tecnico Sarri, dall'altra il tecnico Di Francesco, che cercheranno di prendere l'intera posta in palio. Quindi una partita dagli alti contenuti tecnici ed anche agonistici. Andiamo a vedere in dettaglio le squadre nella classifica. Napoli primo in classifica a 21 punti, seguono a pagliate Juventus ed Inter a 19, la Lazio a 16, la Roma a 15. Ma ricordo che i giallorossi debbono recuperare la partita sospesa per il mattempo con la Sampdoria e quindi dovranno andare a giocare a Genova e ripetere questa partita, dove chiaramente, ce lo auguriamo, possa prendere l'intera posta in palio. Comunque domani sera, dicevo, una partitissima dove veramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. I tifosi partenopei, purtroppo, per motivi di ordine pubblico, non saranno presenti, ma seguiranno sicuramente davanti ai propri televisori la squadra tanto amata. Una curva sud che cercherà di spingere la squadra di Eusebio Di Francesco verso una possibile vittoria. Questo è il nostro augurio e quindi speriamo che ciò possa accadere. Quindi, come dicevo, è una formazione, quella della Roma, che cercherà di scendere in campo per cercare di frenare soprattutto le avanzate della temibilissima squadra partenopea. Lo ricordo, il Napoli ha questo tridente così micidiale con Mertens, punta di diamante. Noi rispondiamo con Zego dall'altra parte, infatti la partita si parla moltissimo di questi due attaccanti che possono risolvere da un momento all'altro. Ma la partita è destinata ad avere probabilmente epilogo diverso, perché le marcature strette che effettuano le squadre, è probabile poi che magari sia un difensore a risolvere questo incontro. E appunto per questo è un incontro molto bello da vedere, da gustare, ma soprattutto da onorare con la presenza dei tanti tifosi che riempiranno lo stadio olimpico. Tra i due allenatori il bilancio è in perfetta parità. Infatti vede tre vittorie del partenopeo Sarri e tre pareggi e tre sconfitte. Sarri ha fatto, dice Di Francesco, un lavoro eccellente. Ha avuto una crescita esponenziale. Le sfide con me sono relative. Certo, chi vince domani sera si dice che possa essere l'anti-Juve. Beh, certamente, dice ancora Di Francesco, il vincitore sarà più convinto dei propri mezzi. Il Napoli è una squadra molto bella, ma la Juve resta la Juve. Quindi resta la squadra da battere. Resta la squadra che sicuramente punterà al titolo finale. I convocati per Roma-Napoli, per quanto riguarda la Roma, ci sarà la prima per Kasrop che finalmente esce dall'infortunio, ha recuperato perfettamente, siederà in panchina. Chissà che il tecnico di Francesco non ci regali la possibilità di vederlo per qualche minuto. Sicuramente giocherà qualche minuto nel prossimo incontro, non in Coppa con il Chelsea, lo ricordo, mercoledì, ma giocherà qualche minuto nella successiva partita di domenica prossima contro il Torino, a Torino appunto. Prima per Kasrop, allo Stadio Olimpico, davanti al pubblico amico. Out sarà invece Strotman, Sharawi e Schick. Si pensava di recuperare per questa partitissima contro i partenopei Strotman, invece si spera addirittura di recuperarlo contro il Chelsea a Londra. Mercoledì nella partita di Champions League è un'altra partitissima. e Sharawi e Schick invece non saranno, non ce la fanno e non saranno neanche disponibili molto probabilmente per la Coppa. Quindi ci sarà veramente da stringere i denti, da soffrire per cercare di superare la squadra partenopea. Per quanto riguarda invece i convocati del Napoli, nessun problema tra le fila del Napoli in vista della sfida di domani contro la Roma. sono tutti a disposizione di Sarri, tranne, lo sappiamo, il lungodeggente Milic e Tonelli, ex difensore dell'Empoli, addirittura poco impiegato da Sarri. Quindi ci sarà veramente una partita incredibile, molto sentita, già se ne parla da qualche giorno. Interviene su questa partita il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, che dice Oltre a Juventus e Napoli nella rotta a Scudetto vedo le due milanesi e anche la Roma. Tutte squadre queste costruite per arrivare alla vittoria finale. Per la Lazio sarebbe una sorpresa trovarsi in corsa, ma il campo sta dicendo che non può essere esclusa. La Lazio potrebbe diventare così la vera autentica sorpresa. Sta meritando di essere lì sopra, è una squadra da temere e chi vuole arrivare fino in fondo deve farci i conti. Quindi non c'è più, come continua ancora Tommasi, non c'è più il predominio assoluto della Juve, anche se resta la squadra da battere. È presto per fare i bilanci il percorso in Europa per tutte le squadre coinvolte determinerà anche il campionato. Infatti vorrei aggiungere a queste parole di Damiano Tommasi che la Roma e il Napoli poi dovranno fare i conti con la Champions League. Quindi la Champions, lo ricordo, è una vetrina importante che qualsiasi giocatore al mondo vorrebbe giocare e perché no arrivare in fase finale. Quindi bisogna dosare le forze, bisogna fare in modo di far giocare e vedere, soprattutto, ma per questo i tecnici lo sanno sicuramente meglio di me, dosare le forze, dosare appunto i giusti movimenti per portarsi a casa i tre punti importanti. Quindi la Roma dovrà sicuramente cercare di fare la partita. Il Napoli è temibilissimo, lo sappiamo, in contropiede micidiale, ne sa qualcosa la Lazio, dove era passata in vantaggio, lo ricordo, e poi è stata travolta nel secondo tempo da un Napoli arremmante. Quindi è prima in classifica, non ha mai perso, quindi i dati statistici parlano chiaro. Veramente una partita da non perdere, una partita da stare lì per chi non potrà essere all'Olimpico incollato al video, una partita da gustare e così sicuramente sarà. I tifosi, e noi ce lo auguriamo, addetti ai lavori, speriamo che possano gioire delle gesta dei tifosi giallorossi. Prossimo appuntamento, lo ricordo, della squadra della Roma è mercoledì contro il Celsi in Que di Londra, successivamente in campionato, la domenica, incontrerà il Torino. Speriamo, e veramente ce lo auguriamo, che la Roma riesca a prendere tutte le partite nel verso giusto e prenda soprattutto risultati positivi. Bene, amici che ci ascoltate numerosi, io spero Fabio Pezzotti, qui su FP Sport Radio, di darvi le giuste informazioni, quindi a me non resta che salutarvi e dandovi appuntamento con noi alla Roma alla prossima puntata. I migliori auguri, i migliori saluti e grazie ancora per gli ascolti.